Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, aggiornamento in tempo reale, ringraziando i ragazzi in chat del robot! Guardate che storia ragazzi, seconda parte di Gamba disponibile! E davvero, sta cominciando a prendere forma! Come sempre, i Wader Bot continuano il loro lavoro di costruzione e davvero ragazzi, è un qualcosa di mastodontico! Le due gambe sono complete, adesso secondo me dovremmo aspettare lunedì o martedì per vedere la parte del torso che sarà quello che probabilmente ci spoilererà la vera forma del robot! Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live! Ciao! Ciao!